Allora, io mi sono preoccupato in questi anni di spendere il tempo per il passato, nel senso che soltanto parlando del passato si può capire il futuro. E allora ho da 50 anni che raccolgo stampe, ne ho altre logicamente a casa, e l'ho divisa in cartografia, in città, paesi, paesi, città e vedute, e poi ho fatto quella dei costumi calabresi e ho inserito anche le epopee. Le epopee significano le battaglie costruite in Calabria, fatte e svolte in Calabria, che sarebbero quella di Seminara, quella di Maida, tra l'altro Maida, questo piccolo paese, se tu vai a Londra vedrai tre cose per Maida, 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 Maida Street, una fermata della metropolitana, una strada importante. Ecco, ho voluto dare questa immagine a questa mostra, nel senso che ho iniziato con la cartografia, poi logicamente ho inserito la pesca del pesce spada, che ho trovato una stampa del 1831 calabrese, e poi ho lasciato una parte per Garibaldi, per i fratelli Bandiera, che sono dimenticato un pochettino di questa storia.